Com'è difficile essere popolari ed è ancora più difficile se non sei ricco, né bello, né simpatico! Ma ci sono dei modi per trasformare anche i più sfigati in re e regine della popolarità! Oh, che festa di compleanno deprimente! Ok, è ora di insegnare a quella tipa disperata una bella lezione! Bleh, ma che schifo! È perfetta! Tanti auguri! Ed ecco a te un bel dolcetto! Spero che ti piaccia! L'ho fatto apposta per te! Oh, ma sembra buonissimo! Lo assaggio subito! Cosa? Ma non è un dolce! È una spugna sporca! Quella spugna è come te! Schifosa! Non ce la faccio più! Ehi Olivia, puoi aiutarmi un attimo? No, sono impegnata! Ma Olivia, ho bisogno del tuo aiuto! Ti ho detto che ho da fare! Ma guarda, ho bisogno di aiuto per lui! Oh, ok! Allora sì che ti aiuto! Mi segnerà tutto ciò che sai sui ragazzi! Innanzitutto, quando si flirta, si inizia con un bel occhiolino! E una volta ottenuta la sua attenzione, sorridi! Poi scuoti i capelli! E alla fine, morditi le labbra! Wow, ok! Penso di aver capito! Oh, ok! Sono così contenta che avrò un fidanzato! Ed è un nuovo giorno! Ok, eccolo lì! Adesso devo mettere tutto in pratica! Numero uno, l'occhiolino! Beh, eh... Ciao! Ok, basta occhiolino! Adesso cosa devo fare? Già, sorridere! Ecco qua! Guarda che hai... Ok, mi sta guardando terza mossa! I capelli! Credo che si faccia così! È tutto ok? Ma che strano! Solo io la sto vedendo! E ora la mossa finale! Mi morderò il labbro! Di sicuro sembro una stella di Hollywood con queste mosse! Wow! Ok, io devo andare in classe! Ma... Sta andando via! Non avrò mai un fidanzato! La mia vita fa schifo! Wow! Sì! Voglio essere sexy! Ma dai! Guarda che trasformazione! Wow! Ok, è ora di provare su di me! Devo prima togliermi gli occhiali! Questa paletta dovrebbe andare bene! Ancora un po' di questo ombretto! E il blush! Ah, non devo scordarmi il mascara! E ora le labbra! Ho bisogno di un colore audace! Il rosso dovrebbe attirare l'attenzione! Ok, finalmente sarò sexy! Che diavolo! E' una bella camminata fino in classe! Sembrano tutti sconvolti! Ciao a tutti! Io me ne vado! Bene, bene! E la mia prossima vittima? Eccola! E' arrivato il mio momento! Ah! Ma che paura! Scappa! Ehi! Ti andrebbe di uscire insieme? Nemmeno quel criminale vuole uscire con me! Che giornataccia! Ma la nonna renderà tutto più bello! Oh! Come sta la mia adorata? Ah! Nonna! Ma stai bene? Ma perché la mia dolce nipotina assomiglia a un pagliaccio? E questa mossa! E quest'altra! E' già esattamente! Ma che cosa sta facendo? Ehi! Fermati e fatti più in là! Non va bene come lo stai facendo! A te serve un altro tipo di video! Ok, te la senti? Forza! Toccami il dito! Wow! Ora ci siamo! Molto meglio! Adesso siamo pronti per la giornata! Non vedo il telefono! Mi servono gli occhiali! Oh! Ma come sto bene! Grazie mille! Tranquilla! Sono qui per questo! Accidente! Ma guarda! Sul serio! Guarda questo TikTok! Stanno guardando il mio video! E guarda quanti mi piace! Finalmente ho trovato qualcosa in cui sono brava! Sì! Beh, in realtà sei proprio brava! Tutti si divertono in vacanza, tutti tranne me! E anche se fosse, nessuno se ne accorgerebbe! Ah! Ho rovesciato il caffè! Che vitaccia! Ora devo lavare il mio pigiama preferito! Dov'è il detersivo? Ehi! Questa roba mi ha fatto venire un'idea! Ok, il video dell'ala di un aereo ce l'ho! Ora devo solo allineare il flacone e il telefono! Ha funzionato? Sì! E' ora di fingermi in vacanza! E devo fare qualche scatto in spiaggia! Ah! Fammi togliere gli occhiali! Scatto in spiaggia! Fatto! Vai con la montagna! Devo essere vestita adeguatamente! Questa maschera da sci è perfetta! È stata la migliore finta vacanza di sempre! Accidenti! Ha funzionato! Ci sono cascati! E guarda quanti nuovi follower e mi piace! Sono un genio! Avrei dovuto farlo secoli fa! Evviva! Sono la maga di internet! Quale maglietta scelgo? Oh mio Dio! Ma intendi vestirti così? No! Non esiste! Ti serve aiuto! Questa cos'è? Via! E adesso? Sì! I capelli! E la faccia! Togliamo l'elastico! E via gli occhiali! Illuminante e fondotinta faranno miracoli! E anche la giusta tonalità di ombretto! Gli accessori sono un must! E ora l'abbigliamento! Vatti a cambiare! Ancora non ci siamo! Cambiati! Sì! Ora va molto meglio! Prima e dopo! Ma che differenza! E non ci ho... Volevo dire abbiamo messo tanto! I capelli sono stati la parte più semplice! Basta tenerli sciolti! Non ti ho mai vista così bella! Oh! La campanella inizia la lezione! Ah! Ma non vedo nulla senza occhiali! Wow! Ehi! Sono io, Joy! Ma come sei bella! Posso avere il tuo numero? Oh! Aspetta un attimo! Mi serve una penna! Ce l'ho? Ok! Eccoti il mio numero! Come volevi! Ecco! L'ho scritto tutto! Credo! Grazie! Ci sentiamo dopo! Oh mio Dio! Ma è successo davvero! Quello cos'è? Carta igienica attaccata alla scarpa! No! Ma non è giusto! Ma capitano tutte a me! Sei mai stato popolare? Facci sapere nei commenti! E non dimenticare di condividere questo video ed iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo!